Buonasera Aldo Travia, insomma partita bella, combattuta, tantissimi giovani in campo, hanno giocato tutti in tutte e due le squadre, che partita hai visto? Una bella partita, soprattutto i miei ho visto dei miglioramenti, scusate come se non sa voce, come al solito, noi ancora dobbiamo crescere, purtroppo questo Covid non ci ha permesso di lavorare tecnicamente, non abbiamo lavorato di più sul recupero fisico e su quello tecnico dei ragazzi, e ora niente, ora giovedì abbiamo un'altra partita con la Mezzia e proveremo a fare dei miglioramenti. A un certo punto eravate lì, ed è stata lì per larga parte in vantaggio e poi punto a punto, come ce la poteva fare secondo te? Secondo me le due squadre sono lì, solo che noi ancora dobbiamo lavorare tanto sulla testa e alcune cose di gioco in fase offensiva, ancora non giriamo bene la palla, non facciamo alcuni movimenti, non ci stiamo lavorando. Come hai visto l'avversario? All'avversario alla fine erano due, barra tre giocatori che ci hanno messo in mente contare, ma il nostro problema oggi non è stata la ripresa, ma è stato più o meno l'attacco, eravamo nervosi, che vuoi, una partita di cartello, e i miei sono partiti già con nervosi nel giocare, è lì che abbiamo perso la palla, la partita di attacco.